Questa è una maschera illuminante, lenitiva, super super attratante, purificante L'applico è questi e questo qui Ciao, 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 ciao Sono tanto contenta che tu sia qui oggi, davvero, davvero, tanto, tanto contenta Oggi pensavo, avevamo parlato comunque, ma pensavo di farti una skin care molto molto dolce Con dei prodottini nuovi, molto speciali Ve ne spoilerò uno, ad esempio Questo è il siero È pazzesco, è buonissimo E sono tutti così stupendi Quindi pensavo di farti appunto una skin care con questi prodottini E non vedo l'ora di sapere cosa ne pensi Però prima vorrei offrirti qualcosa, se posso Ok, niente caffè Però posso offrirti qualche snack O solo dolce, mi sa Oppure un succhino Eccolo Posso avere un succhino all'arancia Un succhino alla mela Delle parrette Dei biscotti Un al cioccolato Nei verdilli E poi dei dolcetti Un pochino più sfiziosi Ricoperti di cioccolato Tutti diversi Ok, allora Bene, succhino all'arancia Sì Ok Allora Qui c'è il dolcetto E appunto questo è cioccolato Cioccolato bianco E fragola Delizioso E si mangia anche la baguettina Poi ovviamente adesso c'è la carta Quindi non la sto toccando E questo è per te E poi succhino 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 all'arancia All'arancia Bello fresco Fai bene la vitamina C C C Ti do anche la cannoccia Ecco qua A te Anche questo Adesso direi che Possiamo cominciare con la skin care Io partirei Dallo sciacquare Il viso Ok Per non rischiare di bagnarti O sporcare i capelli Ho qui una fascia Bella 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 elastica E vado A Mettertela E a portarti i capelli Ok Via Dal viso Perfetto Ho questo Sapone Detergente Per il viso Super Super Delicato E Adatto sicuramente Alla tua pelle Il profumo è Delicatissimo Ma svagamente Di vaniglia Spero di piazza E tutti questi Prodotti Sono anche Pialogici Quindi Vado a abbondare un pochino E nel mentre Diversa anche un pochino D'acqua Ho questa ciotolina qui E diverso un pochino D'acqua Sul viso Ok Ancora un po' Benissimo Ok E vado Vado bene anche Alla Del viso Collo Sul collo Ok Qui Benissimo Un po' I lati del naso Che di meno Agli occhi Ok Molto Molto bene Controllo Che non ci siano Che non ci siano I capelli Rimasti Benissimo Passiamo adesso Al tonico Ovviamente Utilizzo Questo Che appunto È completamente A base di piante Con estratti Con estratti Di piante Te lo vado a spruzzare Sul viso Ok Quindi Ok Benissimo Lasciami Tamponare Il tonico Perfetto Te lo senti abbastanza Appunto Senti che la bella L'ha subito Per bene Ok Benissimo Benissimo Ora Abbiamo Sempre con Degli attivi A base di erbe Questo Siro Super 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 Potente Che andrà Veramente A rimpolpare Rimpolpare La tua pelle Renderla Anche Super Super Luminosa Questo lo puoi usare Sia Di giorno Che di sera Ok Ne metto Un po' di gocce Sul tuo viso Ok E vado Distribuirlo Delicatamente Un po' Damponando Sul collo Anche Non va Solo messo Proprio Così Ma va Anche Un attimo Premuto Sulla pelle Così Ti faccio Magari Un massaggio Così Ok Benissimo Adesso Che Abbiamo messo Anche Il siero Vediamo Io vorrei Farti Tanto Anche Una maschera Un piccolo Trattamento Cosa ne Dici Ok Va Bene Io adesso Quindi Ti mostro Un po' Tutte le Maschere In tessuto Che ho E anche Cosa ti vorrei Mettere Sugli occhi Allora Qui Le ho Tutte Mi ho Una Due Tre Quattro Differenti Allora Partiamo Da questa Gialla Questa E Una maschera Illuminante Alla Vitamina C Ti può interessare Ok Abbiamo Poi Una maschera Lenitiva Di un colore Molto delicato E rosa Molto rosa Delicato Bello La terza È una maschera Purificante E diciamo Antimperfezioni Che poi Imperfezioni Insomma Però Per Purificare Un pochino La pelle Questa Bianca Invece È Un Boost Di Idratazione Potentissimo Quindi Super 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 Atratante Se ti senti La pelle Un po' secca Si lo so Sono carinissime Quale Ti ispira Di più Illuminante Lenitiva Purificante O Estremamente Idratante Facciamo Illuminante Ok Benissimo Benissimo Ti chiedo Di Abbassarti Leggermente Piano 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 Ok E adesso Alzare un pochino Il viso Ok Ok Benissimo Ti applico La maschera Ok Perfetto E vado a stenderla Bene Sul viso In modo che aderisca Bene Sulla fronte Ok Sul naso Sotto Sotto Al mento Ok Sempre i lati Ti è abbastanza Larga sugli occhi Ok Perché adesso Andiamo a mettere Anche una maschera Per gli occhi Per gli occhi Ho pensato A qualcosa di Fresco 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 Quindi Ho due Cetriolini Appena appena Sono usciti dal frigo E li vado ad appoggiare Sugli occhi Ed è per questo Che volevo anche Che Diventessi un pochino Crudesta Indietro Allora Vado ad appoggiare Questi E Questo Qui Ok Chiudi pure gli occhi E noi ci vediamo Fra circa dieci minuti Ok Benissimo Ok I cetriolini Sento che sono Un po' secchi Quindi immagino Che l'idratazione Sia appena Arrivata Nel contorno Occhi Come state È stato Rilassante Ti stavi Attormentando Va bene Va benissimo 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 Ti tolgo Anche la maschera Benissimo Anche questa Sento che è un po' secca Quindi il suo lavoro L'ha fatto Comunque Massaggiamo un pochino L'incesso Sulla pelle Perché adesso Mancano Due creme La crema idratante E la crema solare Benissimo Se per te è comodo Stare così Io ti lascio anche così È più comodo Ok Allora Come ti ho detto Appunto Adesso Manca la crema Puoi scegliere È fra appunto Due creme Una è un pochino Più Leggera Fresca Più 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 Ora io sceglierei Un po' quella fresca Perché dopo Ti metterò anche la protezione solare Però Dimmi te Prova un attimo A sentire l'odore Di questa E di questa Ok Quella azzurra Bene Quella un pochino Più Leggera Perfetto Vado A spalmarta Proprio sul viso Dal Dal Pucciato Come vedi la crema qui Senti sì che è leggera Anche un odore Fresco Come ti senti anche gli occhi Come fanno Ti senti comunque La pelle Rimpolvata Benissimo Te l'ho detto Questi fatti Mi piangono Tantissimo Questa non c'è bisogno Di distribuirla Perché appunto L'abbiamo già distribuita Su tutto il viso Uniformemente Ultimissimo 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 Step E appunto La crema 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 solare Importantissima Il miglior Prodotto Antietà In circolazione E la protezione salare Perché appunto Protegge Dal sole che fa invecchiare La pelle Ma proprio la rovina Che non fa troppo bene Un po' di vitamina D Fa bene a tutti Ma troppo sole Proprio sulla pelle Così no Quindi Proteggiamoci Allora Ne prendo Un po' Anche questa Non ti preoccupare È super Leggera Non andrà Non è pastosa Non lascia Segni bianchi Ok Quindi Anche sul collo Assolutamente Sul collo Sul collo Sul collo Anche un pochino Alla toccatura Della maglietta Ok Vomero Distribuire Bene 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 Sul naso Ok Sulle orecchie È importante Molte persone Saltano le orecchie No? Anche queste Sono esposte Benissimo Direi che adesso Posso toglierti La faccia Ok E La skin care È finita Io ti ringrazio Tantissimo Di Essere Appunto Stato qui con me Di avermi fatto compagnia A me fa Sempre super Iper piacere Prendermi cura di te Quindi Io ti mando un bacione Un abbraccio E ci vediamo prestissimo Ok Scrivimi Scrivimi Che ci vediamo Assolutamente presto Un bacione L'albaccio Il